Grazie, grazie a questa meravigliosa iniziativa, cioè un omaggio floreale che la città di Tremona vuole offrire alla signora Luciana Arvedi che accogliamo con un applauso che tanto fa per la cultura di Tremona vuole offrire alla signora di Tremona vuole offrire alla signora di Tremona. Tremona vuole offrire alla signora di Tremona. Quindi una ricerca storica nella quale abbiamo fatto presente. Abbiamo creato una rete internazionale con i grandi musei del mondo e anche per la signora. Saluto e ringrazio per essere intervenuto oggi tra noi il ministro dei beni culturali, il professor Massimo Brai. Il vicepresidente della Commissione Europea, onorevole Antonio Tajani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.